Dall'8 giugno, grande apertura di Carisiland Aquapark, con le sue perle Isla Dorada, Isla Incantada e la nuovissima Isla Natascia. 200.000 metri quadri di parco acquatico, 25.000 metri quadri di piscine caraibiche, oltre 3 chilometri di acquascivoli, la laguna con onde più grande d'Italia e poi l'onda anomala. Vi aspettiamo tutti i giorni con spettacoli, cascate, terrazze solarium, idromassaggi, il galeone dei pirati, 7 megapiscine e tanti acquascivoli, per vivere un'emozione caraibica con atmosfera piratesca. Carisiland Aquapark, vivere un sogno in una grande realtà a Cellino San Marco, vincitore dell'Oscar dei parchi Parks Mania Award come parco acquatico dell'anno in Italia. Grande novità dell'estate 2019, l'apertura di Tata River Pirates Adventure.